Presidente D'Alfonso, le opposizioni già sono sul sentiero di guerra, sembra che questa regione debba decadere. Il fatto che pongano questa questione alle opposizioni è ridente e non ho detto che è ridicolo, perché la questione che giustamente la Corte ha rappresentato riguarda il rendiconto del 2013 e del 2014. Il 2013 è propedeutico al 2014 e noi per quanto riguarda il riaccertamento dei residui del 2013, lo abbiamo già fatto a giugno del 2015, lo abbiamo comunicato alla Corte ed è venuto anche meno a questo punto il significato del pronunciamento della Corte. Ma voglio mettere in evidenza che in alcune realtà territoriali addirittura ci sono nuove maggioranze che fanno realizzare l'accertamento a figure commissariali scelte ad hoc, proprio per non mettere il pollice in ciò che è stato il passato. Noi abbiamo assunto una condotta istituzionale come è giusto che sia e vogliamo portare alla luce le ragioni documentali sia dell'accertamento dei residui che della rendicontazione. Lo stiamo facendo con la fatica che questo impone, ma noi però diciamo qui ad altavoce che per quanto riguarda i nostri cinque anni faremo tutti i compiti allineatamente per tempo. Quando noi lasceremo per ricandidarci e rigovernare il prossimo quinquennio avremo già fatto la rendicontazione con premettente accertamento dei residui. Non lasceremo il lavoro non affrontato. Io però voglio rassicurare tutti gli abruzzesi, ma anche gli italiani che hanno assistito alla notizia di ieri, che non esiste non solo il rischio, proprio è giuridicamente impossibile che si realizzi ciò che pure è stato scritto ieri. Grazie.